Tempo di votazioni a livello nazionale, il 20 e 21 settembre, i due giorni più attesi di questo mese in cui alcuni cittadini si troveranno a votare anche per le comunali, oltre che alle elezioni regionali e al referendum costituzionale riguardante il taglio dei parlamentari. Nel Cilento e Vallo di Viano saranno ben 12 i comuni che andranno alle urne per rinnovare il voto alla propria amministrazione comunale. Casalvelino, Celle di Bulgaria, Ispani, Laurino, Lustra, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni Appiro, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni e Sassano. A Casalvelino ricandidatura per Silvia Pisapia, sindaco uscente della lista civica Il Veliero. Lo sfidante sarà Luigi Lista, di Insieme per Casalvelino. Il sindaco uscente di Celle di Bulgaria, Gino Marotta, della lista in comune 2020, verrà sfidato alle urne da Antonella Iuculano, di Noi per voi. A Ispani i cittadini dovranno scegliere fra due candidati, ovvero tra Francesco Giudice, di Siamo Ispani, e Marilinda Martino, della lista civica Uniti per Crescere. Gregorio Romano, direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni, ricandidato a sindaco di Laurino con la lista Alba per Futuro Comune. Lo sfidante sarà Emilio Finizzola, di Cambiare Laurino e Villa. Anche illustra Cilento al voto due le liste, candidati a sindaco Luigi Guerra, di Crescere Insieme, e Marzia Chirico, della lista Legalità e Trasparenza. Tre invece le liste per il comune di Pertosa, candidati Francesco Gaiardi, Paese Mio, Domenica Barba, Pertosa Futura e Corrado Caputi, per Partito Valore Umano. A Polla tre i candidati, Massimo Loviso, Pollesi per Polla, Pier Domenico di Benedetto, Polla Unica e Fortunato d'Artista, Forza Polla. Il sindaco uscente di Postiglione, Mario Pepe, sarà sfidato al voto da Carmine Cennamo, da Noi per Postiglione, e da Deborah Amoroso, Postiglione che vogliamo. Ferdinando Palazzo, sindaco uscente, Giuseppe Sorrentino e Alberico Sorrentino, i candidati dell'amministrazione del comune di San Giovanni Appiro. Anche Sant'Angelo Affasanella al voto. I cittadini dovranno scegliere tra il sindaco uscente, Gaspare Solomone, insieme per Sant'Angelo, e Pietro Cappelli, impegno comune. Luigi Mandia, i valori che contano, e Giacomo Orti, obiettivi in comune, candidati a sindaco nel comune di Siciniano degli Alburni. A Sassano tre le liste dopo i due mandati di Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale, e candidato alle regionali con Italia Viva. Candidatura di Antonio D'Amato, Giovanni Abruzzese e Domenico Rubino.